Vicepresidente Riccardi, lei ha segnalato oggi che il sistema del 118 funziona in Friuli Venezia Giulia, funziona con coraggio grazie agli uomini e le donne che ci lavorano ed è un sistema che non ha avuto paura di porsi delle domande quando qualcosa non ha funzionato. Beh, io oggi sono venuto a salutare gli operatori del 118 di Trieste che sono inevitabilmente colpiti da questa vicenda che è accaduta, quindi senza voler fare considerazioni su quello che è accaduto perché è compito di altri. Io credo che il comportamento della politica davanti a queste cose sia quello di essere presente in particolare nei momenti difficili e quindi sono venuto qui perché ritenevo necessario venire a portare non solo il mio saluto, la solidarietà personale ma anche quello del Presidente Fedriga, dell'intera giunta regionale perché la gente deve continuare a lavorare, deve sapere che le istituzioni stanno dalla loro parte e soprattutto per dare un segnale ai nostri cittadini che il sistema continua ad andare avanti naturalmente con i suoi pregi, i suoi difetti, come sono tutti i servizi che noi cerchiamo di migliorare giorno per giorno ma non si può mettere in discussione per un fatto purtroppo come quello che è accaduto la qualità e l'impegno di tanti professionisti che abbiamo visto qui oggi determinati, preoccupati ma nello stesso tempo anche molto responsabili e forti che hanno dimostrato in questa occasione che è un sistema nel momento in cui ha delle cose che non funzionano e anche in grado di scoperchiarlo quindi questo mi rende ancora più orgoglioso di essere colui che oggi ha la responsabilità della salute per il lavoro e la dedizione e la passione con la quale tutti questi operatori ogni giorno vengono qui a fare il loro servizio e auspico un'altra cosa che al di là dei problemi che inevitabilmente ci sono nel gestire queste cose mi auguro che la nostra gente al di là delle legittime critiche che ci devono essere quando una cosa non funziona alzi un po' la voce anche rispetto alle cose che funzionino perché qui dentro c'è gente che credo possa raccontare tante storie che oggi l'aria che viviamo tende a nascondere io penso che tra alcune difficoltà che naturalmente non si presentano nelle dimensioni del fatto che oggi stiamo purtroppo vivendo ci siano tante storie, tante esperienze di tante famiglie che hanno avuto a che fare con questi operatori e che credo li abbiano ringraziati silenziosamente forse questo silenzio dovrebbe ogni tanto finire